La disciplina sportiva della ginnastica ritmica alla ribalta nella prossima conviviale del Panathlon di Sulmona. Giovedì 11 ottobre all'hotel Santa Croce Meeting dalle ore 20 sarà ospite del club presieduto da Luigi La Civita, l'ex campionessa del mondo ed olimpica della nazionale italiana Fabrizia Dottavio. Nata a Chieti il 3 febbraio 1985, la Dottavio negli anni ha arricchito il proprio curriculum con titoli di rilievo come l'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e l'oro ai campionati mondiali di Baku in Azerbaijan nel 2005, ma poi ci sono state tante altre medaglie che hanno reso sempre l'atleta teatina protagonista in campo nazionale, europeo e mondiale. Fabrizia Dottavio adesso ricopre l'incarico di membro del consiglio direttivo della Federazione Ginnastica d'Italia. Alla serata interverranno i rappresentanti della SD Nicla, società che dal 1992 porta avanti le attività della ginnastica ritmica in Valle Peligna. La presenza di una campionessa plurimedagliata olimpica, affermato La Civita, unita a quella delle giovani ginnaste peligne, sono il miglior connubio per la diffusione di quei sani valori sportivi alla basse del Panathlon. Nel corso della conviviale le ginnaste della Nicla si esibiranno in una dimostrazione tecnica. La partecipazione alla serata potrà essere prenotata entro martedì 9 ottobre al segretario del Panathlon Armando Di Rocco telefonando al 339 10 48 910. Grazie a tutti.